ciao ciao a tutti e benvenuti su Archidee in questo video voglio mostrarvi 10 idee semplici e veloci da realizzare con la tecnica wire wrapping non mi andrò a soffermare sulla spiegazione di ogni singolo tutorial perché sono tutti dei mini video di un minuto ricavati da dei tutorial che ho già pubblicato qui sul mio canale youtube quindi se poi vi andate a vedere l'info box per ognuna di queste idee troverete il link con il tutorial dettagliato e tutte le spiegazioni necessarie in questo primo video ho mostrato come realizzare questi orecchini con delle perle e fili in alluminio nel video del prossimo minuto vedremo come realizzare quest'altro ciondolo ed orecchini con del filo in rame e delle pietre dure le idee che ho raccolto in questo video sono tutte adatte per i principianti di questa tecnica ho pensato di fare questo tipo di video riassuntivo perché qualche anno fa ne avevo fatti diversi e vi erano piaciuti molto inoltre per quanto riguarda la tecnica wire wrapping nelle varie pubblicazioni fatte durante gli anni non ho seguito una logica andando dal tutorial più semplice al tutorial più complesso quindi a volte chi arriva sul mio canale trova un po difficoltoso capire da quali tutorial partire per iniziare a lavorare con la tecnica wire wrapping avevo già fatto un lavoro riepilogativo di questo tipo anche sul mio sito e nella sezione delle notizie in quello che è un po il blog ma sicuramente fare un lavoro di questo tipo riepilogativo qui su youtube ha più visibilità e anche più possibilità di essere trovato quindi questo vuole essere un video di riferimento per tutte le persone che vogliono iniziare a lavorare con il wire e che non si vogliono ancora spingere sui progetti troppo complessi ad esempio vediamo in questo terzo video di un minuto un bracciale fatto con le pietre dure e delle spirali create con i fili metallici intorno alle pietre dure stesse e vediamo poi come quarta idea l'incastonatura di questi piccoli cabochon e si tratta di un incastonatura di base fatta con i fili a sezione quadrata e semicircolare ma che naturalmente potrete fare anche con altri tipi di filo per quanto riguarda la qualità delle riprese di questi video come potrete vedere sono tutte molto differenti perché sono video fatti da almeno sette otto anni fa fino a un paio d'anni fa o all'anno scorso più o meno quindi avevo strumenti diversi e anche ero meno capace nel fare le riprese nel fare l'editing e anche proprio nel fare le creazioni ho deciso comunque di ripubblicare questi video e li sto condividendo anche su facebook e su instagram perché anche se le riprese non sono attime e la mia manualità sette o atto anni fa era diversa dalla manualità che oggi secondo me rimangono delle idee molto valide e ancora attuali quindi che potete realizzare benissimo e con le quali potete mettervi già all'opera con questa tecnica in questo quinto mini video infatti vediamo come realizzare una chiocciola con la tecnica wire con il wire martellato e anche con il wrapping e sono contenta di dire che questa è un'idea che è piaciuta tanti anni fa come continua a piacere ancora oggi nel momento in cui l'ho ricondivisa sui diversi social tra l'altro se mi andate a seguire su instagram e su facebook cercandomi sempre come archidee o diana archidee vedrete che nei post nei tutorial di un minuto di questo tipo sono andata anche a scrivere le spiegazioni riassuntive punto per punto quindi se siete su quei social e vi salvate quei post potete averli sempre presente in modo veloce nel momento in cui dovete andare a fare una di queste lavorazioni non è necessario andarsi a riguardare a riguardare tutto il tutorial per intero ma avete già il riassunto in questo sesto video vediamo un esempio di albero della vita un po diverso dal solito perché è a forma di cuore perché c'è la luna tra i rami e perché è arricchito da tanti cristalli invece di chips in pietradura nel prossimo video che è la settima idea vediamo invece come realizzare la parte centrale di un bracciale a forma di simbolo dell'infinito e anche questa è una delle tematiche che continuano a essere un trend del mondo dei gioielli non solo nella tecnica wide wrapping ma in generale proprio nel settore dei gioielli il simbolo dell'infinito è qualcosa che continua ad andare sempre di moda non tramonta mai se vi piacciono questo tipo di video riassuntivi che vi aiutano anche a orientarvi meglio nel mio canale mi raccomando fatemelo sapere scrivetemi un commento perché potrei farli intanto sempre per quanto riguarda la tecnica wire wrapping magari anche per i progetti un pochino più avanzati andandoli a raggruppare in un altro video riepilogativo ma posso farlo anche per le altre tecniche come che ho trattato come ad esempio le resine o le paste polimeriche l'idea di fare questo tipo di video così riepilogativi mi è avvenuta anche perché alcune persone quando aspettavano l'uscita del mio corso online sulla tecnica wire wrapping mi hanno chiesto dove potevano imparare a fare le prime cose nell'attesa appunto del corso online per cominciare a prendere confidenza con i materiali e gli strumenti e io ho appunto indicato loro una serie di video su youtube che potevano essere opportuni per iniziare vediamo ad esempio qui nell'ottava idea che vi propongo come realizzare un anello a forma di serpente e in questa nona idea che vi propongo vediamo come realizzare un ciondolo a forma di oio de dios occhio di dio che è una lavorazione tradizionale messicana e può essere anche riportata nella tecnica wire anche se originariamente viene fatta con il tessuto e due bastoncini di legno naturalmente nel video corso che adesso è disponibile per tutti le riprese sono di qualità migliore rispetto a quelle che state vedendo dei video di tanti anni fa e le inquadrature anche sono migliori perché se mi sbagliavo non inquadravo le mani durante alcuni momenti delle riprese andavo poi a rifarle finché non erano giuste e quindi se volete iniziare da questi primi tutorial e poi volete approfondire trovate già disponibile il mio corso online gioielli wire wrapping che vi ho già presentato e che comunque ci tengo a ricordarvi anche perché vi lascerò anche in questo video il codice sconto nell'info box che rimarrà valido fino alla fine di agosto l'ultima idea che vi propongo è quella della mia primissima incastonatura in cui tra l'altro ho fatto una serie di errori perché il filo che utilizzavo per gli avvolgimenti era troppo spesso e la lavorazione sul retro non aveva un disegno ben definito ma voglio anche farvi vedere da dove sono partita per arrivare poi alle lavorazioni che ho fatto per il corso cercando di perfezionarmi il più possibile per rendere a voi questo percorso molto più semplice più facile e per farvi bypassare una serie di errori che si fanno quando si inizia a lavorare con questa tecnica ci tenevo a farvi vedere i miei primi tentativi anche e soprattutto per dirvi di non scoraggiarvi se all'inizio non vi viene tutto perfetto come negli esempi perché comunque ci vuole sempre un po di esercizio se vi è piaciuto questo video non dimenticate di mettere il pollice in su e di iscrivervi al canale io adesso vi saluto perché vado a preparare i prossimi tutorial super nuovi e ci vediamo al prossimo video ciao ciao